40 studenti di 28 istituti scolastici superiori del Piemonte sono stati a Berlino per il viaggio studio organizzato dalla Consulta Europea del Consiglio Regionale del Piemonte nell'ambito dell'iniziativa Diventiamo Cittadini Europei. Gli studenti piemontesi hanno visitato il Monumento dell'Olocausto e il Memoriale del Muro e hanno incontrato giovani studenti tedeschi del Movimento Europeo.